... Signori, al di là degli scherzi, su questo palco si avvicineranno con un importante riconoscimento che gli viene riconosciuto dalla VTK di cui tra l'altro vediamo nel pubblico il presidente mondiale Michele Panfietti che sta girando tra di noi un importante riconoscimento. Michele Panfietti che va per l'attività sportiva esattamente come avviene per gli importanti awards che vengono dati, voi sapete, a Los Angeles e che verranno date a cinque personalità importanti del nostro mondo che adesso... Il primo premio arte marziale dell'anno viene attribuito per aver fondato e sviluppato ormai in varie regioni d'Italia questa meravigliosa arte marziale, il Warpedo, la via della spada, della via della pace. Un grande successo destinato a crescere nel tempo. Signori, sono pieto di annunciare... Il premio arte marziale è il premio arte marziale, il premio arte marziale, con il premio arte marziale. Grazie per la visione Grazie per la visione